Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ritorno alle origini, si va in pista con l'Abarth! Seppure sia appena arrivata la Yaris Jair in garage, l'Abarth continua ad usarla e oggi ragazzi sono tornato indietro di 10 anni perché non so da quanti anni erano che non partecipava ad un Radun, ad una pistata con la mia fedele 500 Abarth. Oggi ragazzi mi trovo alle porte di Torino nel circuito Club de Mille, Radun organizzato da Automobili Farina Carrozzeria, cioè la carrozzeria che mi ha riverniciato completamente l'Abarth. Oh, qui ci sono un sacco di cinquini belli agguerriti! È un pistino piccolino, più per i kart, però piste piccoline con un sacco di curve si prestano bene per le 500 Abarth. Come potete vedere qui hanno tutti veramente del manico. Adesso andiamo a fare una carellata nei paddock perché ci sono veramente tante Abarth, tanti colori e poi ci andiamo a scatenare perché da veramente troppo tempo che non utilizzavo la mia Abarth in pista. Che spettacolo questa Abarth viola, tra l'altro mi sembra verniciata, ma non è assolutamente pellicolata. E questo è il bello delle Abarth. Giri nei paddock, non trovi due Abarth identiche. Bello di vedere così, tanti colori, personalizzazione. E questo è il mondo dell'Abarth. Compri una di queste scatolette, le modifiche le rendi uniche, non si possono trovare due Abarth identiche. Che bella questa verde lime. E adesso in pista scatta la gara, ci prendiamo a sportellate. Allora, ammetto ragazzi che Marco me ne darà di brutto. Beh, però tu hai TT04 semi-sleak, ti difendi bene. Adesso vediamo, adesso vediamo, salgo sulla mia. E' un pistino piccolino da kart, però cavolo se con una macchina come l'Abarth ci si diverte. Justin comunque, è più cavalli, è una turbina più grande, però non mi scappa eh. Queste sono da fare in prima. Questo punto è pericoloso perché c'è un bel dislivello, la macchina si scompone parecchio, è staccata. L'Abarth non è rinnovata per la sua trazione, uh, infrenata, mamma mia che sottosterza. I freni comunque stanno durando. Oggi fa veramente caldo, con il petrol di bordo mi segna 33 gradi. Fa veramente caldo, purtroppo su turbo mi soffrono tanto il caldo. Que spazzo! Sì, sì. Overe gomme stanno implorando pietà! Anche i freni! Facciamo l'ultimo passaggio, veloce! Raffreddiamo! Non so da quanto tempo è che non strapazzo l'Abarth così! E dopo tanto tempo, farlo in pista, in una giornata estiva così calda, diciamo che oggi l'Abarth ci ha dato dentro anche per tutto il tempo che l'ho usata negli ultimi tempi. Però ragazzi che spasso! L'Abarth mi strappa sempre un enorme sorriso ogni qualvolta la uso! E che bello, ritornare qui nei pad e vedere così tante Abarth, così tanti colori, proprio come i vecchi tempi! Oh, finalmente si è fermato! Comunque viaggi, altro che vado piano, vado piano! Ah, fammi sentire il bang! Ragazzi, adesso torniamo in pista, però ci mettiamo al volante dell'Abar di Giacchi! Sono veramente curioso di com'è da guidare, perché l'ho visto prima in pista, mamma mia! La tua macchina va veramente forte! Mi fa piacerissimo! Quindi mi dicevi che monti una TD04 un po' particolare! TD04L con giranti Navional! Proprio, è la classica Saito, venduta Saito originale, con la Westgate da 0.6, preciso, originale! Cioè i freni da 330, ce l'hai addirittura più grandi dei miei! Facciamo due giri e provi senza clima e poi accendiamo! Ok, io usavo il clima, ecco perché eri più forte! Io avevo il clima acceso! Io almeno giravo fresco! Ragazzi, c'è Marta che sta provando la mia! Occhio, ma guarda che vola eh! Vola veramente! E' bello se ne va a prendere quelli la davanti! Guarda che viaggia! Oh, va tanto più forte della mia! Senti! Ma fai tira subito! Ma senti che non è che ha tanto ladri eh! Rispetto all'A14! Qua infatti io rallentavo perché fa veramente troppo! Sì, qua si scompone tanto! Sì, ti uccide! Che cos'hai di assetto? B14! Eh, un assetto decisamente più spinto del mio! Io i coni volevo più! Ok! Un compromesso per l'utilizzo stradale! Certo! Ma... Uff! Marco, bello provato eh! No, ma proprio forte la tua caula! Sentila come continua a tirare! Mamma mia! Ragazzi, che onore! Mazzolino che ci sta divertendo con la mia Blackie! La sto collaudando! La sta collaudando! Mamma mia! Facciamo l'ultimo passaggio! Senti come va! Quanti la seconda! Senti come ti buttano dentro! Più è un altro mondo! Wow! Com'è? Perdiamo un po' di cavalli! Fammi accendere insieme! Sì, perché stiamo cuocendo! Perché quei cavalli ce ne sono anche più troppi! Mi sa che ne abbiamo persi un po' col caldo che fa! Cosa ne dici Marco? Veramente! Complimenti! Cacchio! Va veramente forte! Sono contento! Veramente! Il lag come ti sembra? Allora! Solo di 3.000 si sente! Però appena entra la turbina! Ha veramente tanto! Uff! No! Ma anche come i freni! Gomme! Cioè! Per un uso così pistaiolo! Veramente belle! Messe giù bene! Ragazzi! Sono tutto sudato! Sto morendo di caldo! Però devo dire! Tanta roba alla bar di Justin! Cioè! Rispetto alla mia! È migliore sotto ogni punto di vista! La sua TD-04 attacca un po' più in alto! Forse un po' troppo per una pista così piccola! Però! Appena entra la turbina! Arrivo subito a 7.000 giri! Gomme semi-sleak! Un impianto frenante ancora più grande del mio! Delle sospensioni ancora più estreme della mia! Perché gli stempi 14 contro i coni! Mi sono più compromesso con l'utilizzo stradale! Ragazzi! Sì! Veramente tanta roba questo Abarth ho appena provato! Sì! Devo dire che c'è ancora un po' di margine di miglioramento per la mia! Bene ragazzi! Cambio di location perché dalla pista ci siamo spostati al Motor Village di Torino che è praticamente una delle concessionarie FCA più carine di tutta Italia! Noi adesso ce ne rifreschiamo un pochino e lasciamo che tutti gli appassionati possono godere della vista di tutti questi cinquini! Dopo un fresco, freschissimo aperitivo meritato perché oggi il computer di bordo dell'Abarth ha segnato fino a 37 gradi! Adesso facciamo un po' un giro qui nel parcheggio del Motor Village e vi faccio vedere meglio le Abarth che hanno partecipato a Roduno di oggi perché oggi in pista c'era veramente tanta confusione, musica, presentatore che parlava... non c'era la condizione ideale per mostrarle, guardate questa, mamma mia! Il motore è stato sostituito, il proprietario mi ha detto che il suo motore originale l'ha lasciato a casa siccome la sua filosofia è, ce l'ho la macchina, perché non godermela utilizzarla e fare chilometri? Ha montato un motore di una 112 Abarth e guardate lì che chicca! Abbiamo l'autografo di Arturo Merzario, mamma mia ragazzi che spettacolo! Non mi nascondo che non mi dispiacerebbe guidare una di queste! Qui troviamo una 695 di posto, questa è la macchina del presidente dell'Abarth Club di Torino uno degli organizzatori di questo raduno, guardate qui che chicca! Questo è un cofano in carbonio vero, come se non fosse già abbastanza leggera il proprietario l'ha leggerita ulteriormente, che spettacolo di macchina! E io non mi nascondo che ragazzi, se volete comprare un Abarth e tenerla per molto tempo la 695 di posto, considerando che nei prossimi anni Abarth passerà al 100% elettrico questa è la macchina da avere! Sobrietà portami via, però è questo il bello del mondo delle Abarth non ne trovate due uguali e spesso e volentieri i proprietari amano osare con livree e configurazioni particolari Ragazzi che spettacolo di giornata! Sono tornato indietro di 10 anni quando avevo appena comprato l'Abarth iniziavo a fare le prime modifiche, spulciavo sui forum e adesso che modifiche faccio? Iniziavo a frequentare i primi club, i primi raduni, le prime giornate in pista e oggi ho fatto un piacevole tuffo nel passato Tanti dicono, hai una Ferrari, ti è appena arrivata la Yaris GR, ma che te ne fai dell'Abarth? Di una scatolina come questa? Beh ragazzi, l'avete visto oggi dalle mie espressioni, dalla mia felicità io questa macchina ce l'ho da più di 10 anni e continuo a piacermi e emozionarmi come se fosse il primo giorno e per questa giornata di puro divertimento devo ringraziare Massimo dalla Carrozzeria Farina il titolare di Black e qua dietro c'è anche Justin In descrizione video qua sotto trovate il link del canale di Justin e anche la pagina di Carrozzeria Farina di Torino Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi perché non siete ancora fatti e come sempre, grazie per la visione! Ciao! Ciao!